segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te e tre anime posso anche darvi la mia opinione sul carrello tricolore per certo prego vorrei notare una cosa allora di per sé una cosa non è sbagliata può servire qualcosa è molto generica l'accordo che è stato raggiunto io però credo che nei prossimi tre mesi effettivamente il prezzo degli alimentari aumenterà poco perché dico questo perché negli ultimi tre mesi il prezzo degli alimentari è aumentato poco se guardiamo gli ultimi 12 mesi il carrello della spesa è aumentato del 9 per cento ma ormai i prezzi non stanno più aumentando quindi a un certo il posto fra tre mesi il governo probabilmente riuscirà a dire avete visto che abbiamo bloccato l'inflazione ma in realtà l'inflazione per i prezzi degli alimentari si è già bloccata negli ultimi tre mesi a ecco vedi si è bloccata da sola quindi un trucchetto diciamola così